Salvatore Cimmino, presidente dell'Associazione Autismo Campania Onlus. Innanzitutto, ben trovato qui a Radio DGS. Grazie mille, buonasera a tutti. E ben trovato anche al San Domenico Family Hotel per il campionato mondiale di pizza piccante, all'interno del quale abbiamo avuto questo evento nell'evento che regala un sorriso con una pizza. Come la vostra associazione si è inserita all'interno di questo contesto? Allora, tutto nasce con Vito, il proprietario della pizzeria Donno Rosario, una pizzeria molto nota lì a Sant'Antimo, dove lui già con la maestra Angela ha iniziato questo percorso all'interno della pizzeria. E praticamente poi mi ha invitato e quindi noi abbiamo sposato il progetto e ci siamo impegnati di divulgarlo in varie piazze dell'Interland napoletano. Grazie poi al Presidente del Movimento Italiano Pizzaioli che ci ha invitato a partecipare a questo contesto. Noi siamo qui e abbiamo partecipato con gioia. I nostri ragazzi, come sempre, anche quando facciamo lì sul territorio campano, si dilettono a diventare piccoli pizzaioli, a pasticciare un po' con la farina e poi degustare le proprie pizze fatte con le proprie mani. Quindi per loro che hanno problemi anche di relazione deficitaria, il contatto un po' restie, questo l'arte culinare, i colori, il tatto, stimola molto e abbiamo visto che sono molto interessati. Quindi per le persone autistiche che sono molto restrittive negli interessi, abbiamo scoperto che questa attività è molto gratita a loro, soprattutto ai più piccoli. Sono anche i più piccoli che sono venuti qui al campionato e hanno anche loro messo le mani in pasta, anzi hanno proposto una pizza, quindi ti chiedo innanzitutto che pizza hanno proposto e com'è andata questa giornata per loro. Guarda, noi abbiamo buttato sulla semplicità, la pizza che è stata proposta ai vari giudici e la pizza margherita che loro ormai sono dei veterani perché l'abbiamo fatto preparare diverse volte. E il più piccolo, sì, voglio ricordare che c'è mio figlio Samuel che sono papà anche di bambino autistico, c'è Carmine, c'è Domenico che in rappresentanza anche dell'associazione siamo arrivati qui in questo contesto. Siamo stati benissimo, devo dire che la location è meravigliosa e niente, cioè si siamo sentiti come a casa nostra e quindi abbiamo apportato anche noi questo contributo perché il nostro, anche come associazione Autismo Campania Onus, è quello di man mano, con la presenza anche, con le nostre attività, portare quella sensibilizzazione perché il nostro obiettivo è quello di creare una comunità educante. Come la si crea? Sensibilizzando, raccontandoci, anche non solo con le parole, ma anche con le geste e partecipando a questi eventi, per noi tutto, diciamo, è funzionale per arrivare al singolo e quindi la speranza nostra è quella di creare questa comunità educante che sape poi andare oltre ogni diagnosi, scevra da pregiudizi, scevra dall'imbarazzo che molto spesso è l'imbarazzo che fa chiudere le due realtà. Quindi noi abbiamo scelto di raccontarci e gli altri poi sceglieranno di accoglierci. Ecco, come invece vi raccontate come associazione? Cosa, anzi, ci raccontate? Su cosa lavorate appunto a Napoli e quali sono magari i futuri progetti? Sì, allora, siccome io, come già detto, sono papà di un bambino autistico, quindi so quello che le famiglie vivono quotidianamente. Diciamo, viviamo in una realtà dove le istituzioni che dovrebbero stare civici non è polemica ma è una triste realtà e quindi noi cerchiamo anche attraverso un legale che diciamo partecipa, collabora con l'associazione a titolo gratuito di aiutare le famiglie su vari aspetti, soprattutto ultimamente nel territorio campano, non so qui in Calabria, c'è difficoltà nel reperire maestre di sostegno e quindi stiamo affrontando, stiamo intavolando diversi ricorsi per garantire, diciamo, la copertura scolastica di sostegno a ogni bambino. Poi facciamo delle attività anche laboratoriali, collaboriamo anche con altre realtà, il centro Salicello Don Calabria, dove loro fanno un recupero sociale di bambini che i loro genitori hanno problemi con la giustizia, quindi fanno... E noi approfittiamo di far incontrare queste due realtà con attività semplici, laboratoriali, in modo da renderli quanto più inclusivi e possibile. E niente, la nostra attività è quella di, come ho detto oggi, di andare dappertutto fino a creare quel sentimento di ogni persona che molto spesso si diventa consapevoli, come già detto, solo incontrando le persone che vivono quella realtà. E questo è noi ci crediamo fino in fondo, ecco perché abbiamo anche accolto l'invito di Vito del Presidente Madelegani, proprio perché credo che laddove si incontrano delle anime che hanno lo stesso obiettivo, il risultato sarà sempre positivo. E c'è anche ovviamente la finalità all'integrazione nel mondo lavorativo. Certo, infatti il regalo a un sorriso con una pizza non si limita a una mera partecipazione poi dei bambini e degli adolescenti. Noi stiamo studiando per vedere con Vito e con la maestra Angela, con chi poi ci vorrà aiutare, noi siamo aperti a tutte le realtà, di poi creare un qualcosa di più grande e creare anche posti occupazionali, ovviamente poi a secondo pure delle caratteristiche di ogni persona autistica, perché non tutti uguali all'altro, si parla di autismi e mai di autismo, perché non troverete mai un autistico uguale all'altro. E questo è il nostro obiettivo, tra tanti progetti come associazioni che vogliamo portare avanti abbiamo sposato questo progetto perché è importante, perché io avendo questo ruolo di Presidente ricevo tantissime telefonate, io ho il bambino di 12 anni, però mi chiamano anche genitori che hanno 50-60 anni o mai stremati, abbandonati da tutti, allora ho imparato ad avere una visione più l'incimirante perché i bambini di oggi saranno gli adulti di domani e quindi questa sarà un'occasione, regala un sorriso con una pizza, per creare qualcosa di importante. Lo so che è difficile, però non è impossibile. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare, come ho detto prima, persone che hanno voglia di collaborare. Spero che la nostra collaborazione vada sempre avanti nel pieno rispetto l'uno con gli altri e credo che sono fiducioso. Cercheremo di trovare anche uno sbocco occupazionale per i nostri ragazzi, che è importante, perché dopo i 18 anni c'è nulla, dopo i 18 anni smetti anche di essere autistico perché vieni poi preso in carico dalla neuropisicatria, dalla psichiatra, cioè nel senso che praticamente non ha una cultura, una preparazione verso la realtà dell'autismo e quindi ci ritroveremo che le terapie diminuiscono, le possibilità diminuiscono e quindi questi ragazzi molto spesso si trovano tra virgolette reclusi nelle proprie case e poi dobbiamo anche considerare che i genitori comunque l'età avanza e le forze non sono più quelle di una volta. Quindi noi lavoriamo con questa visione, di cercare di evitare quello che poi domani, oggi abbiamo la certezza che capiterà. Quindi vogliamo cambiare un po' il nostro testino, che non per tutto rosio. In bocca al lupo allora. Grazie mille, grazie per l'ospitalità, grazie a tutti.